D'accordo, Lester, è ora di chiarire le cose adesso. Oh, per l'amor di Dio, che cos'è questa? Una terapia di gruppo per femminucce con carenze affettive perché la mamma non vi faceva le coccole? Già, e di questo che si tratta? Veramente un gruppo di sostegno per malati terminali. Oh, forse dovremmo andarcene. No, no, prego, continuate. Piantala di romperci. Trovo il tuo particolare tipo di psico bla 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 utile ed efficace quanto la polvere magica delle fate. Per me è stato di grande aiuto. Oh, bene. Dottor Cox? Sì, più bello che c'è. Quel tizio sembra in gran forma. Di che cosa starà morendo? Di un attacco d'avvenenza? Ah, sai una cosa, va al diavolo, Edric. Quale stadio del cordoglio il cui presente Dottor Cox sta attraversando? Rabbia. Bravi, sì. Spera di non vedermi mai arrabbiato. E neanche di vedere me arrabbiato. Paresti meglio a non commettere altri errori. E' tremendo.